Grazie Presidente, grazie a tutti voi per essere qui questa mattina a questa presentazione di Vinitali che certamente per Verona Fiere rappresenta uno dei momenti più significativi dell'anno e probabilmente anche uno dei momenti più emozionanti e mi piace ricordare che proprio Mario Soldati nell'inaugurare ormai quasi 50 anni fa nella prima edizione di Vinitali ci evidenziò in quel suo percorso che aveva iniziato denominato Vino al Vino come il vino sia parte della nostra cultura, della nostra vita quotidiana, della nostra tradizione, della nostra anche passione e credo che Vinitali sia riuscito in questi anni, in questi 41 anni di lavoro che l'anno prossimo saranno 50 e quindi iniziamo a anticipare un po' l'obiettivo dei 50 anni a creare questo clima, cioè a non essere solo una manifestazione dove si fanno gli affari che ovviamente, lo spieghiamo, vengono fatti in maniera importante, sempre crescente, ma anche un momento nel quale tutti noi ci emozioniamo un po' per un prodotto che è un prodotto così importante e così anche identitario della storia del nostro Paese. Cos'è Vinitali nell'edizione 2015? Io proverò a tracciarvelo attraverso vari elementi di lettura. Il primo elemento di lettura è ovviamente quello quantitativo, quantitativo nel senso che ci fa anche piacere confermare che questa edizione di Vinitali si presenta come una edizione di grande consolidamento anche dei dati espositivi. Siamo ad oggi oltre i 4.000 espositori, oltre le 4.000 presenti, l'anno scorso alla stessa data eravamo a 4.011, quindi crediamo di poter consolidare e confermare i storici dati di presenza della manifestazione già di successo da già record del 2014. Anche sul lato dei metri quadrati abbiamo venduto oltre 90.000 metri quadrati, siamo a circa 91.000 metri quadrati e ovviamente voi sapete che poi la misura insieme ad Enolitec, ad Agrifood e a Sol supera i 100.000 metri quadrati, quindi un aggregato veramente importante di dimensione dove il vino si esprime in tutte le sue capacità, in tutte le sue tendenze, ma si esprime anche una coralità con altri prodotti che sono contigui alla sua filiera. Un altro driver di lettura è come sta andando il mercato. I dati che ha detto il Presidente poco fa, mi piace evidenziare quanto emerge da una indagine che proprio Verona Fiere, proprio Benitali, ha fatto in queste settimane con un panel che certamente non è scientificamente rappresentativo, ma avendo coinvolto le 30 aziende che per volume di affari complessivo raggiungono quasi 2 miliardi di fatturato, quindi una quantità importante e rappresentativa del fatturato di questo settore. Da questo panel è emerso che il 2014 certamente si chiuderà con una crescita del fatturato delle cantine italiane pari a circa il 5% rispetto al 2013. Ma soprattutto, questo è il dato più significativo, quasi il 60% di queste aziende esprime fiducia per il 2015, fiducia di poter crescere ancora e prevede ancora un anno di crescita e positivo. Mi sembra anche un dato interessante il fatto che molte percentualmente di queste aziende si aspettano una crescita del 8% sui mercati internazionali, ma si aspettano, questo è il dato forse di maggior novità, una ripresa del mercato interno. Un mercato interno che sappiamo assorbe ancora quasi la metà della produzione, che ha visto una crescita anch'esso del 5% sul 2013 e sul quale le aziende hanno investito in questi anni perché continuano a ripensare e a pensare giustamente che tutte le strategie di sviluppo sull'estero, che sono decisive, devono essere anche accompagnate da precise strategie di crescita anche in Italia, che resta un mercato di riferimento per i buyer stranieri in forza proprio della cultura, della conoscenza e della qualità dei consumi che anche nel nostro Paese si esprimono. Abbiamo imparato certamente che in questi tempi è difficile fare previsioni e che i numeri cambiano velocemente, specie alla luce degli imprevedibili e repentini cambi degli assetti geopolitici internazionali che possono e che spesso hanno effetti importanti sul comparto. Ma è indiscutibile che il settore vitivinico italiano mostra una grande vivacità, una grande capacità di investire, una grande capacità di crescita e noi siamo al fianco di chi fa il mercato e di chi opera su questo mercato e lo facciamo con questa piattaforma che chiamiamo VinItaly.